Quando arriva l'estate, la forma fisica va al centro dell'atteo ed è per questo che Michelle Lundziker posta una foto su Instagram in cui allatta sua figlia Sole e mostra i chili in più che aveva allora. Il suo messaggio è di incoraggiamento nei confronti delle neomamme che, subito dopo il parto, possono vivere un periodo di non accettazione del proprio corpo, trasformato momentaneamente. Il suo messaggio è di incoraggiamento, scrive Michelle, un messaggio alle neomamme là fuori. Scrive Michelle, un messaggio andando su Instagram in questo periodo estivo può facilmente venire la tristezza vedendo tutte le ragazze in costume con taglia 38. Guardate questa foto, ero io quando avevo andando su Instagram in questo periodo estivo. Guardate la bella ciccetta che spunta dal mio pantalone non sapete quanto ne andava. Era il rimasuglio dei miei 14 chiletti messi su orgogliosamente in gravidanza. Ho partorito tre volte. Aurora 15 chili, sole 14 e celeste 18. Punto 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 lì. Mettere al mondo un bebè è davvero una grande cosa nonché un vero successo. Ho partorito tre volte. Aurora 15 chili, sole 14 e celeste 18. Punto punto lì. Mettere al mondo un bebè è davvero una grande cosa nonché un vero successo. Ho partorito tre volte. Aurora 15 chili, sole 14 e celeste 18. Punto punto lì. Mettere al mondo un bebè è davvero una grande cosa nonché un vero successo. Ho partorito tre volte. Aurora 15 chili, sole 14 e celeste 18. Punto punto lì. Mettere al mondo un bebè è davvero una grande cosa nonché un vero successo. Ho partorito tre volte. Aurora 15 chili, sole 14 e celeste. È un momento sacro e meraviglioso che non tornerà più. Punto punto io ho assaporato ogni singolo istante con le mie cucciole. Sono degli esserini così belli e fragili da accudire. Punto 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 punto. Perdersi nell'ansia di tornare in forma non ti permette di godere il momento più bello del mondo. Dovete considerare che tipologia di parto avete affrontato. Nel caso di un parto naturale potete fare sport un po' prima. Con il cesareo attenzione punto 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 fate sport con chi vi dà le giuste indicazioni. Un allenamento sbagliato. Nel caso di un parto naturale potete fare sport. E ricordatevi che siete bellissime perché siete delle mamme. Vi voglio bene. E ricordatevi che siete bellissime perché siete delle mamme.